ehi la ciurma io sono alzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di never alone e lanciamoci subito nell'avventura spero che questa serie vi stia piacendo io ancora non ho visto gli esiti del primo video quindi dicevo che non ho ancora visto gli esiti del primo video perché li sto caricando le sto registrando abbastanza uno di seguito dell'altro per riuscire ad avere il tempo per prima diciamo dalla fine di nato cioè per pubblicare insomma non so parlare oggi scusatemi non mi ricordo più come si salta con spazio ma come ah ok no è vero ci si muove con gli altri andiamo 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 non c'è nulla di cui essere felici perché ma a parte che siamo chilometri da casa qua mi sa che oddio no quello si muove polpina aspetta che ci avviciniamo un po' ok eh si si muovono sti blocchi oddio no anche questo no si è salvo qua oddio e dovrei aver sistemato però i problemi audio perché ho visto che c'erano stati dei problemi audio perché ho visto che c'erano stati dei problemi audio perché ho visto che c'erano stati dei problemi audio nei primi due video perché nonostante io avessi detto al addobs di registrare dal microfono della samson miti oddio via 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 Damos Damos scusate bolas porca di una misera vai 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 sotto il vento vai 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 corring come se non ci fanno domani i pesci via 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 Damos adesso è morto e anche la volpe è morta numero 3 morto è numero 3 allora quindi dobbiamo saltare là e aspettare che arrivi l'orso purtroppo non me lo ricordavo questo nonostante l'avessi già fatto prima che succedesse il patatrack del computer grazie orso però non me lo ricordo assolutamente mi ricordo che in questo punto ero rimasto bloccato però non si può cosa fare allora l'orso si blocca là e noi non possiamo andare da nessuna parte ma ho capito poi che bisogna in pratica colpire l'orso per indurlo a venire qua se riuscissi a colpirlo così che appunto ci fa cadere e noi dovremmo teoricamente sopravvivere grazie ai pesci ecco infatti forse devo usare ecco la volpina per muoverci in là perché questi pesci qua sono dei pesci spettri quindi vanno guidati con la volpina altrimenti non succede un kaiser oddio ma ci ha seguito anche l'orso vabbè vabbè brodo fuggi 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 ok ciao oddio quindi vuol dire che lo incontreremo di nuovo sto orso polare mi sa tanto mi sa tanto mi sa tanto questa bambina sarebbe già morta ibernata in realtà però oh il ghiaccio che si alza e si abbassa oddio qua ci rimane uno schiacciato no 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 volpina giù 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 aspetta che salga ok e poi andiamo no pietaforma vieni qua via rispettiamo che salga volpe indietro indietro ok vai ora qua è millimetrico perché se restiamo un attimino più a sinistra la volpe ci muore da quanto ho visto nella mia scorsa run e questo sembra che ti schiacci ma in realtà no ok poi ti schiaccia e buono sta parte dovrebbe essere andata speriamo si si quella parte è andata nessuna morte ma adesso ci sono guai ben peggiori corri 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 Ok, via! Adesso non mi ricordo più però cosa dovevo fare. Forse devo andare con lei e tirargli le bolas. No! Per un pelo! Però mi sembrava di sì che dovessi andare con lei. Allora, qua mi dice volpino qua. Questa parte è un pochettino complicata da girare. Ok. Volpino è andato. Con una... Vado là e colpisco l'orso. Vattene! Ok, si è infuriato ma è ora? Ora che si fa? Forse è da farlo di nuovo. Ok, in una. Vai qua. Colpisciolo di nuovo con le bolas. Via, via! Damossi, damossi. Ok, ancora una botta e viene giù tutto. Però questo giro come faccio a portare di nuovo sulla volpina? Ma... E niente, infatti. Ok, qua ma... Niente. Allora, la volpina va di... A meno che non debba cambiare subito, appena... ... No... Ok Let's go Cosa scoprirono? Oddio dove siamo finiti? Cosa scoprirono?